Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Lì ha messo il piede proprio su una cacca di mucca, di Maioz, che non ha capito e è andato proprio a trovare quello che era inqualificabile come gilet jaune, perché anche gilet jaune era una cosa vasta e poi nella città del paese vicino un'interferenza esplicita. Ma questa volta, dal punto di vista politico, se posso dire, è peggio perché in realtà, io per ora vivo in Francia, in realtà Macron aveva fatto un'apertura reale. Perché? Perché c'è un retroscena francese. Macron, il governo, è preoccupatissimo del fatto che l'ultima volta su una cosa che è molto peggio della fiducia, si chiama il 49-3, una legge è data per approvata in Francia e per farla cadere, non si può più discutere, per farla cadere bisogna far cadere il governo. Su una mozione di censura sulla sfiducia sul 49-3 presentata dalla France Insoumise, anche Le Pen e il Rassemblement Nazionale aveva votato. Quindi in qualche misura il presidente francese vorrebbe tenere ben distinte le due opposizioni e quindi avrebbe concesso qualcosa all'Italia su questa vicenda. Qui non si tratta di buonismo, di interesse, di realpolitik. Soltanto che questo qualcosa non può essere messo in piazza. Doveva essere trattato con una cautela che non c'è stata. Sì, ma sono rimasti i prigionieri della memoria perché va bene la responsabilità della loro storia, del loro passato, va bene la responsabilità di Salvini. Ma anche la Meloni che dice che è bizzarro che hanno considerato provati i migranti che erano sulle navi. Quelli dello sbarco selettivo che poi sono stati fatti scena. Il ministro dell'interno che dice che sono un carico residuale come se fossero delle merci avariate. Cioè sono rimasti i prigionieri del loro passato. Prigionieri della vostra memoria, Scaiola. Grazie. Grazie.